Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi Non vi lascerò orfani, verrò da voi Ancora un poco il mondo non mi vedrà più Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi Parola del Signore Oggi celebriamo la solennità della Pentecoste dove facciamo memoria del dono dello Spirito Santo e non è facile parlare dello Spirito Preferirei parlare appunto dei doni dello Spirito Santo A catechismo spesso si parla dei doni dello Spirito Santo Intanto quanti sono i doni? Sette Per tenere a mente il numero dicevo già ieri sera Basta ricordare le Champions Le finali di Champions che ha perso la Juve Sono sette Oppure ahimè mi tocca riconoscerlo Bisogna ricordare le Champions che ha vinto il Milan Che sono sette anche quelle Però perché parlare dei doni? Perché i doni ci plasmano, ci formano Un regalo, pensate, un dono Qualcosa che ci arriva in dono Qualcuno che ci viene donato Il dono di un figlio Plasma la nostra vita, la cambia Il dono di un affetto cambia la nostra vita Così come i doni dello Spirito Santo Appunto che sono sette E che ci plasmano Formano la nostra umanità E a questi sette doni Oggi ne vorrei aggiungere uno Che potremmo prendere Dalla prima lettura che abbiamo ascoltato Del profeta Gioele Gioele ci ha ricordato così Io effonderò il mio spirito sopra ogni persona I vostri figli, le vostre figlie Profeteranno I vostri giovani avranno visioni E i vostri anziani faranno dei sogni E' bellissimo Gli anziani faranno dei sogni Il dono allora che lo Spirito fa E' quello di sognare Un uomo, una donna Mossa dallo Spirito Santo E' un uomo, una donna Che non ha smesso di sognare Di avere dei sogni Sembra proprio che l'arte di sognare Sia un frutto dello Spirito La solennità di Pentecoste Che stiamo vivendo Può essere vissuta come un lasciare allo Spirito La possibilità di risvegliare in noi dei sogni E non vorrei che Ormai già un po' disillusi della vita La parola sogno Crei resistenze dentro di noi Spingendoci a pensare Che sognare E' qualcosa che compete Al mondo dei giovani E' una stagione della vita Che per magari alcuni Ormai è andata Che è quella della giovinezza In realtà Gioele ricorda che I giovani avranno visioni E gli anziani Sogneranno Sembra dire che La possibilità di sognare Grazie al dono dello Spirito E' data a tutti Tutte le stagioni della nostra vita Devono essere guidate Dallo Spirito E una vita guidata dallo Spirito E' una vita che sogna Un sogno Non è una dichiarazione esatta Sulla realtà che ci circonda Non è nemmeno una spiegazione convincente Non è una sequenza di idee chiare e distinte I sogni non sono fatti di idee I sogni sono delle immagini Uno sogna qualcosa Che non si è ancora realizzato Qualcosa che manca Alla propria vita Per questo si dice Lo immagina Le immagini Sono allora una forma di presenza Di ciò che ci manca Il sogno rivela ciò che ci manca E noi siamo i nostri sogni Veniamo trasformati dai nostri sogni Veniamo trasformati da ciò che ci manca E' interessante C'è un desiderio di qualcosa Che uno appunto sogna Che non hai Però questa cosa che non abbiamo Che desideriamo In realtà è capace di trasformarci Di lavorarci E proprio per questo Il sogno E' ciò che dà energie alla vita Proprio perché c'è qualcosa Che sogni Che ti manca Ti mette in moto un sogno Diversamente La paura E' ciò che spegne l'energia Blocca la nostra vita Spesso questo nostro tempo E' segnato Dalla stanchezza Siamo tutti un po' stanchi Perché? Perché siamo segnati Dalla stanchezza? Perché forse Talvolta Siamo più mossi Dalla paura Che dai sogni La paura invece che muoverci Ci blocca Troppo spesso La vita E' mossa Dalla paura Paura di perdere il lavoro Paura che una vicenda affettiva Possa finire Paura per il futuro Dei figli Paura degli stranieri Paura del futuro E oggi Ci aggiungiamo Paura del virus Ciascuno ha le sue E sono tutte legittime Però Non dobbiamo rinunciare A sognare Se vogliamo Farci lavorare Dallo spirito di Gesù Dobbiamo custodire Questa capacità Di avere dei sogni E' vero però Che a lungo andare La paura Ci toglie energie Ci spegne Così che anche La nostra vita Comincia a essere Caratterizzata Dalla stanchezza E dove il pensiero Più frequente E' quello Delle vacanze Delle ferie Delle weekend Come se Durante la settimana Non fosse vita Quella che dobbiamo Vivere Il sogno Invece è ciò Che ci dà energia Nella vita Ciò che ci mette In movimento Perché ciò Che ci manca Ci muove Lasciamo allora Che questa solennità Di Pentecoste Lo spirito Risvegli in noi Un sogno Vorrei leggervi Due preghiere Che i genitori Hanno scritto Durante il ritiro Del 2018 In vista Della prima Comunione Dei propri figli Avevo chiesto Questo Di scrivere Una preghiera A Dio Che rivelasse Il sogno Che loro avevano Per i propri figli E allora Ne ho estrapolate Due Di queste preghiere E una dice così Dove rivelano Questo sogno Di questi genitori Per i loro figli Dice così Il sogno più grande Per mia figlia È che cresca Con la voglia Di amare Di percorrere Una strada Che la porti lontano Ma che sempre Rimanga Con animo umano Bellissimo Questa preghiera Desiderare Per la propria figlia Che non gli venga Meno nella sua vita La voglia di amare E l'altra preghiera Diceva così Caro Gesù Io desidero E sogno Che mio figlio Diventi un uomo Che non si ripieghi Su se stesso Per rimuginare Le proprie tristezze Ma sappia amare E prendere iniziative Anche quando Le condizioni Non sono favorevoli Anche quando Le condizioni Non sono favorevoli Il desiderio Che uno Non smetta Di prendere L'iniziativa Non smetta Di muoversi Non smetta Di credere Alla forza Dell'amore E poi continua Sogno Che sia capace Di usare La bontà Con gli altri Perché nel cuore Dell'uomo buono C'è una gioia Che non c'è Nel cuore Dell'uomo furbo È molto bella Questa preghiera E allora In questo momento Della mia vita Potremmo lasciarci Con questa domanda In questo momento Della mia vita Quale sogno Sta risvegliando Dentro di noi Lo Spirito Santo Perché E Gioele Diceva così Io effonderò Il mio spirito Sopra ogni persona I vostri figli E le vostre figlie Profetteranno I vostri giovani Avranno visioni E i vostri anziani Faranno dei sogni Qualche avviso E vi invito A prendere il seme A portarlo a casa Anche il foglietto Della messa Portatelo a casa Sul seme trovate Un articoletto Anzi due Sull'oratorio estivo Si farà Non si farà Allora Certamente Non potremo farlo Come gli anni scorsi Con 300 bambini Però vorremmo fare qualcosa Per i ragazzi Per questo Questa settimana Partirà un sondaggio Per capire Un po' Le esigenze Anche Delle famiglie E quindi Da una parte Cercheremo di tener conto Delle esigenze Delle famiglie Dall'altra però Dobbiamo Obbedire Alle normative Che vengono Dal ministero E quindi vedremo Cosa riusciremo A proporre Qualcosina Credo che si potrà fare Certo Non sarà L'oratorio estivo Dell'anno scorso Però Una proposta Per l'estate Dei ragazzi La faremo Ecco Da oggi pomeriggio Su Whatsapp Su internet Comincerà a girare Questo Sondaggio Chiederei Le famiglie Che hanno I bambini Interessate Un po' Al centro estivo Di rispondere In modo tale Che più dati Raccogliamo Più magari Riusciamo a calibrare Meglio La proposta Che venga Incontro Alle esigenze Le famiglie Ma Da tener conto Appunto Di tutte le normative Del ministero A tutela Della salute Di tutti Poi trovate Sempre sul seme Gli orari Delle messe Abbiamo fatto La seduta Del consiglio Pastorale Martedì Sera Abbiamo confermato Sostanzialmente Gli orari Di sabato E domenica Scorsa Sabato La messa Alle 5 In chiesa 18.30 Nel cortiletto E alla domenica Invece alle 9 In chiesa Alle 10 E qua 11.30 Qui nel cortiletto E alle 18 In chiesa Abbiamo messo Due messe in più Tra sabato E domenica Proprio per distribuirci Meglio E non creare L'assembramento Mi pare Di aver detto Tutto Se mi sono dimenticato Di qualcosa Fate qualche segnale Va bene Prego Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Ave Maria Cos'o